Ciao ragazzi, oggi apriamo gli Epic Kamimais, creature pericolose. Guarda, ne abbiamo uno, due, un quintale. Apriamo la prima boschina. Ma che cos'è? Wow, che bello, una iena. Ragazzi abbiamo trovato una iena. Questa iena vive in Africa, Africa-Asia. Ha le zampe davanti un po' più lunghe. Apriamo un'altra boschina. Apriamo, oh si è spaccato. Cosa abbiamo trovato? Oh, uno squalo! Cambia colore? Cambia il colore con l'acqua calda? Perché bocca al di faccio? Adesso abbiamo un'altra boschina. Cosa abbiamo trovato? E' davvero una lucertola. Ragazzi, questo è il drago di comodo. E' davvero una lucertola. Guarda, 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 guarda. Si allunga la coda? Si, troppo. Siamo andando da parte vicino al quale. Apriamo un altro bessino. Certo, guarda. Bufalo! E' davvero un bufalo. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda. un bufalo è bellissimo ma sta anche in piedi e mettiamolo in piedi qua apriamo un'altra postina che bello un polpo il polpo corre negli blu si illumina al buio e apriamo un'altra postina un orso si allunga la bocca basta non lo mettiamo qua ma sta in piedi però apriamo un'altra postina questo l'abbiamo trovato un altro serpente un serpente l'abbiamo trovato questa è una cobra reale è velenosa ragazzi mettiamo nell'acqua lo squalo e l'osso cambia colore diventa tutto bianco bianca azzurro la cobra reale la mettiamo nell'acqua bianca diventa è diventata tutta che io bianca bianca con i puntini gialli che bello che sono diventati ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video non mancate di iscrivervi al mio canale ciao gabi e mettete un bel pollicione ciao ciao ciao